Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come vedete ovviamente la qualità video è molto meglio Finalmente dopo sette mesi senza video E dopo due anni dal secondo Moroccan Trip Inizia il Moroccan Trip 3.0 E' super mega imbarazzante Musica 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 Baby I know You know how to be a heartbreaker But you don't know how love goes Musica I know how to be a heartbreaker Musica Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.